La maglia è la stessa della scorsa stagione ma quel simbolo tricolore appuntato sul petto di leggeri e compagni si farà sentire e come. Le luci della ribalta sono ovviamente tutte per Rebecchi Nord Meccanica che alle 20.30 questa sera al Palabanca apre le danze. C'è Forlì ad inaugurare la nuova avventura in campionato delle ragazze di Coach Caprara che si gode la nuova creatura allestita dal presidente Cercello e dall'uomo mercato Varacca. Un roster altamente competitivo che dà ampie garanzie per affrontare il doppio impegno. Già perché subito dopo Forlì sarà immediatamente tempo di pensare alla Champions che martedì vedrà le campionesse d'Italia impegnate a Mosca. Una partenza sprint dunque agevolate però da un avversario in campionato Forlì che sulla carta non può certo rappresentare uno spauracchio per il sestetto piacentino. Le romagnole hanno perfezionato nelle ultime ore l'acquisto della grande ex Carmen Turlea che non sarà però della contesa. Di contro tra le bianco-blu subito in campo i volti nuovi Fanec e De Cruyff. Ci siamo dunque difesa del titolo appena conquistato e assalto all'Europa. Il primo grido di battaglia di Rebecchi Nordmeccanica risuonerà alto questa sera in un palabanca pronto ad accogliere la nuova versione della squadra scudettata chiamata a dimostrare di non aver affatto perso la propria fame di successi. E lunedì sera alle 20.20 su Tele Libertà Alessandra Lucchini condurrà la prima puntata di una rubrica interamente dedicata alle ragazze di Caprara immagini ed interviste che accompagneranno tutta la stagione del team piacentino.